Visit Fano.app è la nuova pagina web specificamente strutturata per la promozione e organizzazione delle attività turistiche del Comune di Fano. Una pagina online dove con pochi clic il turista avrà accesso a tutte le informazioni di cui necessita su Fano, sugli eventi, sulle strutture ricettive e di ristorazione. Viviamo un periodo dove le cose cambiano tutti i giorni e per questo che abbiamo pensato di creare un contesto digitale nel quale le informazioni potessero essere cambiate in modo costante ed essere direttamente appetibili al turista. Ecco perché nasce la landing page visitfano.app dove il turista può trovare l'informazione essenziale, dove dormire, dove mangiare e cosa fare. Viviamo in un anno dove utilizzare il cartaccio è veramente difficile anche perché deve essere monouso e per quello che sui tavolini dei locali all'interno degli app si troveranno dei QR code dove coloro che sono più digitali potranno entrare all'interno e vedere in tempo reale quelli che sono i programmi, quelli che sono le attività della città di Fano. Visitfano.app grazie alla collaborazione con Maggioli Cultura e con l'applicazione Prenotiamo.app darà la possibilità anche alle attività turistiche di inserire la propria struttura con pochi passaggi e creare una vetrina online con tutte le offerte a partire dai menu, dare la possibilità ai propri clienti di prenotare online e inserire i diversi eventi che vengono svolte all'interno del locale. In più una sezione dedicata anche al personale con volti di chi compone l'organico dell'attività. La piattaforma web avrà anche una sezione dedicata alle strutture ricettive. Il turista potrà visionare la guida all'ospitalità che contiene nomi, recapiti telefonici e posizioni di alberghi, hotel e bed and breakfast della città. All'interno del sito completamente gratuito verranno inseriti anche gli eventi e manifestazioni. È un'estate piena di eventi, se pensiamo al mese di luglio musicale dall'orchestra sinfonica al jazz dal 24 al 31 luglio. Il mese di agosto vede un'importante novità che è Fano Fellini, una settimana completamente dedicata al maestro Fellini con una settimana di cinema all'aria aperta alla rocca malatestiana. È anche il mese della musica tradizionale perché tutti i venerdì a Santa Maria Nuova non perdiamo quest'anno la tradizionale concertistica d'organo. E dal 2 al 6 settembre i concerti internazionali polifonici continuano il loro importante programma.